La fiera di San Michele sarà allestita in Viale Regina Margherita dal 26 al 30 settembre, quando stato deciso dall'amministrazione comunale. Una scelta che ha visto il parere favorevole nel corso della conferenza dei servizi, svoltasi lo scorso 14 e 17 luglio, da parte dei rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell'ASP di Caltanissetta, della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico. Il Luna Park, invece, così come negli anni passati, sarà allestito nell'area dell'ex foro Boario. Le stanze dei commercianti per partecipare alla fiera dovranno pervenire all'amministrazione comunale entro e non oltre il 28 agosto, così come si legge nella determinazione sindacale. Un ritorno al passato, quella della location della fiera al Viale Regina Margherita, per rivalorizzare il centro storico, così come ci ha spiegato l'assessore all'innovazione e allo sviluppo Luigi Zagarrio. L'idea innanzitutto nasce nel rispetto del programma naturalmente politico, che abbiamo portato avanti, nel senso che questa amministrazione vuole rivalizzare il centro storico. Naturalmente la fiera a portarla al centro è impossibile perché non abbiamo gli spazi avanti, quindi la location ideale ritorna a quella dove effettivamente si faceva negli anni passati, che è quella della Sviglia Regina Margherita, quindi dal punto per rivalizzare il centro storico. Abbiamo fatto una convenzione di servizi dove sono intervenuti i rappresentanti degli enti, degli uffici partecipanti, degli uffici del fuoco, l'ASP, l'ufficio tecno, la polizia municipale, e tutto questo effettivamente è stato valutato. Addirittura abbiamo fatto anche la prova con i migliori del fuoco, simulando anche un problema di sicurezza, e facendo anche venire il canone con la scala mobile per vedere se effettivamente c'erano gli spazi per poter accedere al centro abitato. E sinceramente, a mano dalla veritazione che si sono state fatte, anche sul discorso della viabilità, sembra che non ci dovrebbero essere problemi. Naturalmente noi alla fiera vorremmo anche, stiamo pensando, o meglio, nella nostra idea di mettere anche i bus in avetta. Ora vedremo con l'arcato di poter trovare un accordo, perché vorremmo fare anche dei posteggi esterni, in via di via Rochester, dove con i bus in avetta potremmo anche portare la gente direttamente alla fiera.